Di cosa si occupa Sanimpresa? Sanimpresa è una cassa di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, obbligatoria per alcune categorie di contratti di lavoro, il terziario, quindi il commercio, il turismo e la vigilanza privata di Roma e del Lazio, ma poi anche a livello nazionale. Diamo assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, quindi rimborso dei ticket, alta diagnostica radiologica, visite specialistiche, interventi chirurgici, fisioterapia riabilitativa e check-up gratuiti annuali. E perché siete al Sanit? Cosa vi aspettate da questa partecipazione? Ma non è il primo anno che siamo qui, è da diversi anni che partecipiamo, perché il Sanit è comunque un forum importantissimo per quanto riguarda la salute e la sanità nel nostro paese e vogliamo essere il punto di riferimento per l'assistenza sanitaria di questo territorio per quanto riguarda questi settori. Ci aspettiamo un aumento delle adesioni alla nostra gas.